Originario di Savona, si trasferisce a Milano nel 1972. Nel 1981 si diploma regista presso il Piccolo Teatro di Milano, nonché consegue la laurea in drammaturgia presso il Dams di Bologna. Dal 1982 inizia la sua carriera di regista teatrale, specializzandosi nella formazione dell'attore seguendo seminari specifici in Italia e all'estero. Dal 1983 è insegnante di recitazione e regia alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Il 21 aprile 2011 viene nominato direttore artistico dell'Accademia dalla stessa fondazione. Svolge saltuariamente anche l'attività di autore televisivo e radiofonico. Ad esempio per la RTSI ha curato la drammaturgia di due cicli di radiodrammi scritti in collaborazione con l'autrice Mariella Zanetti e ha diretto tre programmi dedicati alla musica e al teatro, la danza del principe, il pastor Fido e il gruppo dei sei. Tra il 1987 e il 1989.